Che oggi sia una presentazione importante non c'è dubbio perché la presentazione ufficiale della lista PDL, che non è la sola lista della coalizione, ma insomma è la lista più consistente a sostegno della coalizione che si è determinata, costituisce l'avvio formale dell'impegno sul territorio per una campagna elettorale che tutti insieme vogliamo condurre con grande determinazione e decisione per invertire la rotta di questa città. Siamo tutti convinti che questo modo di governare è arrivato al capolinea, i frutti e i difetti soprattutto, perché di frutti ce ne sono pochi, di questi 60 anni di governo della sinistra sono sotto gli occhi di tutti, ecco noi con un programma preciso, dettagliato, che investe tutte le problematiche della municipalità perugina, crediamo con le carte in regola per essere credibili per creare le condizioni di un cambiamento che è largamente auspicato da tutta la società municipale.